Salve a tutti, bentrovati da Stefano Ghetti. Non ci sono ancora segnali di cambiamento sul fronte meteorologico. Si alternano queste giornate di tempo instabile con piogge, con nevicate in montagna ancora abbondanti a giornate un pochino più asciutte con anche qualche raggio di sole, con qualche generosa schiarita. Insomma sono alti e bassi che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Non si intravede infatti l'arrivo di una figura di alta pressione in grado di riportare la stabilità atmosferica e ovviamente le correnti atlantiche che pilotano le perturbazioni e conseguenti anche i vortici ciclonici continuano ad essere meta preferita del bacino del Mediterraneo e purtroppo il tempo risulta sempre così instabile, così incerto. Anche nei prossimi giorni dunque rigorosamente ombrelli a portata di mano perché il rischio di pioggia si manterrà ancora elevato. Segnali forse di un cambiamento ovviamente rivolto verso un miglioramento delle condizioni atmosferiche sembra esserci intorno a metà del mese quando il flusso atlantico sembra interrompersi e lasciar spazio ad una maggior presenza delle anticicloni, ovviamente parliamo dell'anticiclono africano in questo caso, ma vediamo se tutto verrà confermato. Nel frattempo invece vivremo davvero ancora una situazione molto 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 instabile. Per ora è tutto amici, grazie per essere stati con noi, a più tardi!